Natale si faceva il risotto e il Natale per noi a casa nostra si metteva il piatto. Il piatto si trovava qualcosa, un mandarino, due caramelle, magari la lana da fare una maglia sotto o la stoffa di fare un grembiule ma era tutto così e poi si mangiava il risotto, si facevano il lesso, era una cosa fuori perché la carne una volta alla settimana forse neanche e tutto così, si mangiava se c'era il panettone altrimenti la mamma faceva la torta di latte. Era così il nostro Natale non è che si faceva l'albero di Natale con il gervenec, si andava su montagna a tagliare un pezzo di albero da accudire sopra, si metteva su caramelle, mandarini per appendere su nell'albero, altro non c'era niente. I bambini non è che c'era tanto divertimento però si divertivano anche con poco, magari dei pezzi di legno, c'erano la scigale, comunque un gioco che faceva un po' di rumore e non è che c'era tantissimo però poi magari le bambole si facevano con i pezzi di stoffa e si chiamava la matasce e non c'era tantissimo però si divertiva allo stesso, erano abituati così. Il giorno di Natale ecco io sentivo mia mamma quando raccontare, quando erano ancora tutti in famiglia, di solito era usanza che cucinasse il capofamiglia il risotto, era il piatto particolare per Natale quello, poi magari facevano anche lo spezzatino se c'era cade la carne o il lesso, ecco. Cosa, Cosa!